Questo sulla semplicità, un'ascoltatrice scrive, è una persona squisita e semplice, è meraviglioso vederla cucinare con il grembiule e senza tacchi dodici. L'altro giorno guarda discutevo con Marco perché dovevamo fare una roba così al volo e io mi sono messo il grembiule, ma si diceva ma no fai senza, ma io sento il grembiule in realtà mi sento quasi nuda, come se sono talmente abituata a portarlo a casa anche solo per lavare i panni oppure passare la stupa e nella mia mente è come se fosse un abito di cui non può fare a meno quindi c'è pure stato un problema strano di qualche grembiule questo rapporto strano. Chiudiamo con questo, un messaggio di un single, non so cucinare in tv velocevo di ogni tipo ma Benedetta se fosse libera io la sposerei, invidio molto il marito.